Ciao amici lettori, oggi vi presento una nuova edizione di Art on World ed è un bellissimo catalogo che riguarda le opere di Silvia Viteri e il titolo è The Awakening, il risveglio. Presto potete sfogliare questo bellissimo volume e scoprire le opere astratte e concettuali con chiari riferimenti ad uno studio filosofico ed uno studio approfondito sugli effetti del colore che Silvia Viteri realizza con grande passione e soprattutto studio e ricerca. Buon viaggio nel mondo di Silvia e con noi ci rivedremo in un'altra città alla scoperta di nuovi artisti perché Art on World è in giro per il mondo con le sue nuove edizioni fra cataloghi, libri e riviste. A presto!